Devo capire perché la tv è rotta. La posso guardare? Sì. No vabbè ma questo... Ma non ha senso! Ciao a tutti ragazzuoli, bentornati sul mio canale 72esima missione di GTA 4. Boys? Io? Io? Come cazzo si dice? Siamo ancora con Bernie e la terza su tre prima di passare alla singola missione per Phil Bell e poi andare da Jimmy Vigorino. Oggi siamo qui con il nostro omosessuale che abbiamo già fatto un paio di favori. La scorsa missione abbiamo inseguito due tizi in macchina che abbiamo fatto fuori e tra un po' non si salta per l'aria anche noi. Comunque like al video, iscrizione e noi passiamo direttamente al gioco. State pronti ragazzi. Devo capire perché la tv è rotta. La posso guardare? Sì. No vabbè ma questo... Ma non ha senso! Ma va bene, va bene. Ok, usciamo dal nostro appartamentino. E andiamo. Verso Bernie. Però Bernie non ci ha ancora chiamato. Al che torniamo indietro e facciamo scorrere l'inesorabile passare del tempo. Many months later. Eccoci qui. Fantastico. Al Pier 45. Va bene. Grazie, grazie taxi. Eri proprio quello che mi serviva. A questo locale ci siamo stati un casino di volte. Little Jacob? Sì, va bene. Tranquillo. Faremo tutto. Nelle missioni secondarie faremo tutto ragazzi. A che percentuale sono del gioco? 48,84. Beh, considerando che prima vado con le missioni principali, siamo a buon punto. Dai, che ci siamo. Eccoci qui. Boys e Oi. Che io non ho idea proprio di cosa significa, nonostante parli tre lingue, non lo so. Boys e Boe in inglese e Aoi è oggi in spagnolo. Non ha senso, Boe oggi, non ha senso. Mi sembra cappuccetto rosso. Certo, ma possiamo ancora provare. Guarda, più persone vogliono morire da morire. Mi lavoravo per la mafia. La polizia e la organizzazione del governo sono tutti i miei case. I kill e steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. What is fun? Honey, you are stressed. Goodbye, Florian. No, 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 Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows... Beh, Boe sì, perché siamo un mare, quindi... Almeno quello è azzeccato. ... Maybe it does all make sense. You understand me? Both of me? Come on, Bryce accidentally let the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. All right. Let's have fun. Che cazzo di... Che cazzo di... Che isterica. Va bene. Allora. Destinazione dov'è? Beh, dai, vicino. Torniamo praticamente vicino al bullying dove siamo andati con Michelle. Karen. Immaginate tipo faccia insabbiare il motoscapo, fagliamo la missione. No, vabbè. Oh, con X si curva meglio. Dov'è l'inculata? Ahoy, sailor! Cute guys off the starport brow! Scratch that! Not so cute! Rouge near russi! Let me see. They don't look like they're on the pleasure cruise. Merda. Do that to us. Ma è la stessa missione, praticamente, della scorsa volta. Cioè, è la copia della missione scorsa. I don't know. Just got to get these guys or they're just come back. I told you that there was no time for this. People are after me. And I have to stay alert. You, Bert, are in this too. You have to keep your eyes open. They're wide open, sweetie. I'm focused. 100%. Let's get them. Oh, spoileré prima o poi, eh? Merda. Salta. Fantastico. Emozionante. Siamo andati sott'acqua nel frattempo. Ok. Praticamente c'è solo rimasto il pilota. Lo cogliessi, magari. Vai. A posto, signori. Così tranquillo. Prima del casino era incazzato. Dopo il casino è tranquillo. Va bene. Ma lo sappiamo che gli uomini di Dimitri sono avvelenati con noi. Niente. Buoi, se oi... Se ne va così. Prima del casino è per Phil Bell, al che io mi avvicinerei anche a casa sua a questo punto. Dimitri. Nicco Bellic. Che vuoi, Dimitri? Mi ha pensato che ci fosse qualcosa di più vero, Nicco. Ora che ho sento che sei amici con Bryce Dockino e Bernie Crane, ho saputo quello che è. Stopi blackmailare i miei amici, Dimitri. Non vuoi mi fai più amicinare. Persuai loro a dare il contratto. Ci possiamo lavorare insieme. Vedi, eh? Comunque, ragazzi... Dove siamo? Ah, ok. Grazie della visione. Like al video. Iscrizione al canale. Ci vediamo alla prossima. Con la prima missione per Phil Bell. Ovvero Truck Hostel. Hostel, ragazzi. Grazie della visione. Bye bye.